Bentornati a Trame Raccontate Male. Oggi raccontiamo Male, un'opera molto particolare. Forse sapete che ci sono alcune opere che hanno l'aura di essere maledette, di portare sfortuna. Questa cosa è particolarmente vera per l'opera di cui trattiamo oggi. Tanto è vero che non troverete mai un musicista professionista che avrà il coraggio di pronunciare il titolo di quest'opera. Quando ci si deve riferire alla stessa si cerca una serie di escamotage, si dice la potenza del fato, lo sforzo, la forza del camino, insomma. E tutta una serie di altre cavolate fondamentalmente che però ci devono evitare di pronunciare il nome di quest'opera. Ora, è ovvio che io sono un uomo razionale cartesiano e non credo certamente a queste shock superstizioni da comari. Per cui vi dico senza alcun problema che l'opera la cui trama raccontiamo male oggi è... Allora, all'inizio del... Ci viene risparmiato il classico passaggio patetico del tenore che si innamorò col soprano in 30 secondi. Qui invece partiamo già da un dato di fatto. Leonora e Alvaro si amano già. C'è un problema però. Alvaro non è il tipico caucasico wasp. Tutt'altro è un indio, un inca se preferite. Quindi, agli occhi di tutti, ma soprattutto del marchese padre di Leonora, è un meticcio, un mulatto e il fatto che sia di famiglia reale al marchese importa una beata. Ora, se nel 1967 Spencer Tracy aveva delle remore a dare sua figlia a un uomo di colore, figuratevi la situazione del 1700. Alvaro e Leonora, dicevamo, si amano e stanno per scappare insieme. La classica fuitina siciliana. Ora, premessa, siamo in una fase storica in cui, nelle priorità dei padri, la felicità delle figlie non entra neanche nei primi cento posti. Conta solo l'onore e che l'imene delle suddette resti intatto. Il marchese padre di Leonora, accompagnato a due servi, li sorprende, mentre stando per scappare, inizia a sbraitare. Dopodiché intima i due servi di arrestare Alvaro, con i tipici compiti di polizia che avevano i servi a quei tempi. Alvaro prende su di sé tutta la colpa. Dopodiché, come dicono a Roma, caccia il ferro, ma non per minacciare. Al contrario, prende tutta la colpa su di sé e presenta impavido al marchese il petto perché faccia giustizia sommaria. Il marchese, però, è un garantista. E dice, morir per mano mia? Ma per chi mi hai preso? Per mano del carnefice tal vita estinta fia. Perché le regole sono regole. Ora, a me la pena di morte sembra un tantino esagerata, considerando che sì, è vero che Leonora sta scappando con Alvaro, ma innanzitutto è consenziente. E secondariamente è ancora illibata. Non c'è stato quindi alcun crimine. A limite c'è stata la volontà di commetterlo. Ma Cesare Beccaria non aveva ancora scritto dei delitti delle pene e quindi a quei tempi la pena di morte sembrava ragionevole. Ecco, ora devo concentrarmi per non ridere. Allora, dicevamo, Alvaro prende tutta la colpa su di sé, si arrende, getta la pistola per terra, dalla pistola parte un colpo che secca il marchese. A proposito ragioniere, è la sua pistola. Io? Ce l'ho sempre. I servi, invece che provvedere ai loro compiti di polizia, visto che potrebbero finalmente arrestare Alvaro con uno straccio di imputazione, portano il marchese ormai morente nelle sue stanze. Alvaro e Leonora scappano, ma poi per tutta una serie di vicissitudini si separano e si perdono di vista. Passa un anno e mezzo, in una locanda la zingra preziosilla esalta la guerra, tanto mica ci va lei a farsi impallinare. Arriva Carlo, fratello di Leonora, che da un anno e mezzo sta cercando lei e Alvaro per ucciderli e vendicare così la morte del padre. In mezzo agli avventori c'è anche Leonora, travestita da uomo. Ma nessuno sembra accorgere, tantomeno Carlo, che chiede a mille persone notizie di quel misterioso viaggiatore, ma si guarda bene dall'avvicinarsi per verificare se sia sua sorella o no. Eppure Leonora, va bene travestita da uomo, è abbastanza vicina a Carlo da sentire quello che dice, quindi passano veramente a un metro di distanza l'uno dall'altro e lui non crede che sia una buona idea alzare il cappello e vedere se per caso si tratta di sua sorella o semplicemente avvicinarsi. Dal racconto di Carlo, Leonora scopre che Alvaro, da lei creduto morto, è in realtà ancora vivo. Ma questo non cambia per niente la sua decisione. Lei vuole ritirarsi o in un convento o meglio ancora in un eremo e passare lì il resto dei suoi giorni. Giunta al monastero, il padre guardiano si fa unico custode del suo segreto e la conduce all'eremo. Ovviamente quando lei si presenta al padre guardiano è ancora vestita da uomo e quindi il padre guardiano non si accorge che lei è una donna, solo dopo lo scopre. E qui mi viene in mente il famoso Batman degli anni 60, ve lo ricordate? Dove questi due si mettevano una mascherina così e nessuno più li riconosceva. E' Bruce Wayne, non lo vedi che è Bruce Wayne? Atto terzo, dalla Spagna ci trasferiamo in Italia dove infuria la guerra fra spagnoli e imperiali. Sono passati alcuni anni, ma Carlo invece che farsi una vita sta ancora cercando Leonora e Alvaro per eseguire la sua vendetta e ucciderli. Il problema è che come investigatore vale pochino. A sua sorella è passato praticamente a fianco senza neanche riconoscerla. E Alvaro non sa nemmeno che faccia abbia, perché le telecamere di sorveglianza di casa sua non l'avevano ripresa. Tanto è vero che Alvaro, qui con basette e ciuffo stile Danny Zuko, ignorando che si tratti di Carlo, gli salva la vita e i due diventano grandi amici. Ve lo spiego meglio. Carlo sta setacciando il mondo alla ricerca di Alvaro. Se lo trova davanti, ma non lo riconosce perché non ha idea di che faccia abbia. Quindi esattamente come pensavi di trovarlo, Sherlock? Neanche il tempo di scambiarsi le amicizie su Facebook ed è Carlo che trasporta Alvaro ferito in battaglia. Alvaro, convinto di essere in punto di morte, fa giurare a Carlo che, appena lui morirà, distrugirà un certo plico. Carlo giura, ma insospettito ad alcuni eventi non mantiene. Nel plico trova un ritratto di sua sorella e capisce quindi che il suo nuovo amico del cuore altri non è che Alvaro, l'odiato indio che lui sta inseguendo da anni. Che poi io mi dico, ma cosa c'era di così compromettente in questo plico? Il ritratto di Eleonora? Delle lettere? Quindi, se anche Alvaro fosse morto senza distruggere questo plico, quale sarebbe stata la tragedia? Non si sa. In tre minutinetti, il chirurgo, che poco prima era convinto che Alvaro stesse per tirare le cuoia, lo salva. E Carlo è molto contento. Ci tiene che Alvaro sia in ottima salute perché lo deve ammazzare lui. Poi Alvaro scappa e si rifugia in un convento. Ma un convento qualunque? No. Si rifugia nello stesso convento dove c'è l'eremo di Eleonora. Detto altrimenti, hanno attraversato mezzo Europa ma poi si ritrovano nello stesso convento dove vivranno vicini per anni. Alvaro nel convento e Eleonora nell'eremo. È una fortunata coincidenza, non trovate? Passano altri cinque anni e Carlo, quando si dice saper mettere una pietra sul passato, rintraccia Alvaro nel convento e lo sfida a duello. Alvaro che ha preso i voti, si rifiuta di combattere. Carlo allora si lancia nel dissing più estremo e tira in ballo questioni razziali che ad Alvaro, non essendo il matma Gandhi, fanno andare il sangue alla testa. I due combattono e Alvaro ferisce a morte Carlo che prima di ispirare vuole un confessore. E qui dobbiamo fare uno sforzo per restare seri. Perché Alvaro ha preso i voti, potrebbe confessarlo lui, ma diciamo che non se la sente. Quindi dove trovare un confessore? Vi ricordo che il duello l'hanno fatto fuori dal convento. E a naso, secondo me, nel convento un confessore potremmo trovarcelo, no? No. Alvaro vaga fino all'eremo dove trova Eleonora. Amore mio, amore mio, a un certo punto Alvaro deve pur dire a Eleonora che dopo essere stato responsabile della morte di suo padre ha appena infilzato suo fratello con un rosticino abruzzese. Eleonora si precipita da Carlo il quale, dimentico del fatto che fino a un secondo prima stava cercando un confessore per morire in santa pace, la pugnala e muore dannato. Ricapitolando, il padre ci ha lasciato le penne a inizio dell'opera in maniera poco gloriosa. Carlo ha sprecato la sua vita a cercare due fuggiaschi e muore senza confessione. Eleonora ha passato la sua vita in un eremo sperduto e muore uccisa dal fratello e Alvaro resta crocifisso nei sensi di colpa. Tutto sto casino e non avevano neanche consumato. Se volete iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima trama raccontata male. Grazie a tutti.